L'umore di oggi è quello di una squadra assolutamente viva, arrabbiata per non aver raccolto sicuramente dei punti meritati. Dobbiamo ancora migliorare la qualità nella concretezza, nelle occasioni che creiamo e un pizzico di attenzione in più su quello che come oggi magari concedi. Non molto ma chiaramente è sempre uguale, qui in Serie A ti fanno male ma oggi secondo me abbiamo fatto molto bene dal punto di vista del gioco e della prestazione, ho avuto una grande risposta e se la sono dati soprattutto loro, che ricordo i giocatori che sono alla prima esperienza ma che piano piano stanno capendo che ci possono stare alla grande. Partita difficile, molto equilibrata, i spazi erano pochi, siamo stati bravi a sbloccarla con un gran gol di Di Gennaro e nella ripresa poi l'abbiamo sicuramente meritata con il raddoppio, potevamo fare in un paio di circostanze anche il terzo gol e ripeto nel finale Crotone è venuto fuori, fortunatamente è segnato solo nel finale di gara. Grazie a tutti! Grazie a tutti!